I carabinieri della compagnia di Torino-San Carlo hanno sgominato un gruppo di pusher africani che occupava stabilmente l'area dei giardini parri del quartiere San Salvario a Torino. L'area che è stata interessata dall'operazione è compresa tra via Ormea, via Petitti e via Pietro Giuria. L'obiettivo dell'indagine condotta dai militari era di restituire ai residenti una zona pubblica della città da troppo tempo nelle mani di bande di spacciatori. Da quanto emerso dal lavoro dei carabinieri, il gruppo di indagati spacciava cocaina e crack in un giardino pubblico e accanto a una scuola secondaria superiore. Il gruppo era riuscito a conquistarsi il monopolio dello spaccio della zona e aveva istituito il suo quartier generale nei giardinetti cacciando tutti i cittadini. 13 soggetti sono stati identificati e monitorati per settimane. In questo modo i carabinieri sono riusciti a ricostruire la loro condotta illecita. I clienti pagavano le dosi con televisori al plasma, telefoni cellulari, abbigliamento e scarpe. I militari hanno sequestrato centinaia di dosi di stupefacente. L'area era sistematicamente occupata dai pusher, ma con il fermo degli indagati, i giardini sono stati finalmente liberati dagli spacciatori e restituiti ai bambini e alle famiglie del quartiere.